capitano buongiorno dormito no zero dormito zero mi sono dovuto e ho voluto godermi questa bellissima coppa qua allora prima cosa che ti chiedo in realtà lo so pesa né pesa tanto pesa tanto qualcosa di incredibile quindi è giusto che sia così farò questa fatica di portarla dai poi ha una bella silhouette è elegante viene a dire la verità elegante bella bella guarda veramente ha velato le mani è un orgoglio orgoglio del capitano come come lo descrivi il capitano con la coppa del mondo del mondiale in mano felicità felicità lo stato puro ancora devo realizzare bene sono sincero però è un qualcosa di di unico di speciale di di raro e sono grato di poter essere qui in questo momento festeggiato questa notte adesso il momento della della nanna se l'unico se l'unico svegli in questo momento quasi e chi mi conosce sa che è così quando tutti dormono sono sempre lì sveglio non ho dormito ma dormo poco in queste situazioni nei viaggi e veglio su di tutti e gli su di tutti e tra un po mattarella veglierà su tutti voi pronti per andare al querinale il momento più alto di questa avventura momento speciale sono veramente contento di far parte di questo movimento che che andrà a fare questa questa cosa qua sono veramente è un onore per me poter andarci e quindi non vedo l'ora grazie 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 grazie